Salone del risparmio 2014, siamo qui con Lorenzo Giavenni di Arca e SGR. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno. Il claim del Salone quest'anno è l'investimento in lungo termine. In quest'ottica, la vostra offerta in cosa si concretizza? Sì, ad Arca fa molto piacere che il Salone sia dedicato a lungo termine perché è sempre stato uno dei nostri cavalli di battaglia. Noi abbiamo sempre puntato sui piani di accumulo. Abbiamo un piano di accumulo che si chiama risparmio e consolida che è un modello proprietario creato da Arca che permette di investire in lungo termine raddoppiando la rata del pack sui ribassi di mercato e prendendo profitto sui rialzi di mercato. Quindi bilanciando un po' la volatilità. Questo è un sistema che abbiamo creato qualche anno fa già testato su molti clienti e su molti fondi ed ha degli ottimi risultati nel medio-lungo periodo. Permette di entrare nell'azionario con una modalità molto tranquilla e molto serena che dà dei risultati veramente sorprendenti soprattutto in mercati molto volatili. Quindi c'è una metodologia di investimento che può distogliare l'investitore, libera l'investitore dalla scelta del market timing. Ma come potremmo comporre una torta degli investimenti con un piano di accumulo? Noi nel piano di accumulo vediamo molto bene le cose più volatili. Quindi tipicamente i fondi puramente azionari o i fondi flessibili ad elevata volatilità. Proprio quelli che il risparmiatore non sa come gestire da solo perché nei momenti di difficoltà lo deludono. Col piano di accumulo, col servizio risparmio e consolida invece si riesce ad approcciare questi mercati in un modo molto moderato un modo che permette anche di consolidare i guadagni e in questo modo si riesce a partecipare ai rialzi dell'azionario anche per clienti che non sanno gestire il market timing e lo sappiamo che sono la maggioranza. Quindi l'investitore mette il pilota automatico e i suoi investimenti in questa torta dei vostri fondi cosa potrebbe inserire per chi è interessato ad aprire una strategia in questi giorni, in questi mesi? Beh, ovviamente nel 2013 abbiamo avuto ottimi risultati sull'azionario America che è stato il mercato più performante dell'ultimo anno, anno e mezzo noi suggeriamo azionario America, azionario Europa ma suggeriamo oggi di rientrare anche negli emergenti sia azionario sia al debito emergente perché è diventato piuttosto sottovalutato e crediamo che attraverso il piano di accumulo il servizio risparmio e consolida si possa rientrare, si debba rientrare in questi mercati. Ho capito, perfetto. L'investimento in lungo termine prende in considerazione anche le tematiche legate alla previdenza in questo contesto Arca mi sembra che sia uno dei leader di mercato cosa ci puoi dire? Sì, Arca Previdenza è il nostro fondo pensione aperto storico abbiamo più di 150.000 aderenti di cui tra l'altro 30.000 del mondo bancario ormai 2,5 miliardi circa di masse gestite è il fondo pensione aperto più grande in Italia creato più di 10 anni fa è la modalità giusta per i risparmiatori per pensare al proprio futuro fiscalmente agevolato da tutti i punti di vista non solo per la tassa sulle rendite finanziarie ma anche sul bollo per esempio bollo recentemente passato da 0,15 a 0,20 sappiamo che non viene applicato ai fondi pensione ed è la modalità giusta essendo esso stesso un piano di accumulo per affrontare proprio gli investimenti di lungo termine gli investimenti tipicamente più azionari o bilanciati in questo contesto l'Italia forse è un po' al palo rispetto ai paesi finanziariamente più evoluti la salone del risparmio è tutto con Arca è tutto grazie